Buon tardi, l'Anselo Treicher ha fatto il premio che non ha toccato il sorteio 22-24. Il nostro premio è un premio di 1000 florini. Il nostro premio è un premio di 1000 florini, il nostro premio è un premio di 1000 florini. Il nostro nostro premio è un premio di 1000 florini. Il nostro premio è Carmen La Roos. Il nostro premio è un premio di 1000 florini. Il nostro premio è un premio di 1000 florini. Il nostro premio è Marvis Leonard. Malicea Suèr 44. Il numero di telefono è 584-663. Il nostro premio è un premio di 50 florini. Il numero di telefono è 594-4772, sorteo 24. Il numero di telefono è 582-5006, è corretto. Grazie a tutti i nostri premio per l'AVE, grazie a tutti i turisti per l'AVE durante l'interno del 2012. Suerte per il nostro torteo milionario e un felice anno per l'UNITOUR.